Ragazze giovani, belle con i décolleté, pianta larga, piedi sporchi, anneriti e puzzolenti, e con i duroni e possibilmente anche con le calze color carne stracciate. E allora Peppe, correvoce che tu addirittura hai fatto il listino prezzi, cioè tu paghi le donne per leccare e odorare i piedi, facci capire come funziona. Io pago 50 euro per leccare i piedi mezz'ora, invece solo per odorare i piedi, 10 minuti e un quarto d'ora, 20 euro. Ma quando lecco i piedi io faccio un cazzo di marmo, ce l'ho bello grosso, 20-21 centimetri, però quando è in erezione, quando sta normale è più piccolo, 10-11. Ho capito, noi sappiamo anche che tu hai una fidanzata. Sì, c'ho una ragazza in affitto da 5 anni, cito 170 euro al mese e faccio sesso completo una volta alla settimana. Prima, all'inizio, i primi due anni, a Natale, citavo anche la tredicesima, poi non ce l'ho data più. E una volta quando stavamo in albergo, stavamo a Stuta Candela, stavo io sotto e lei sopra, disse, sarai anche brutto, ma c'è un cazzo favoloso. Ho capito, tu sei...